Noi proponiamo con questo emendamento, diamo come obiettivo appunto la semplificazione nel mondo dell'agricoltura. In questo caso semplifichiamo la compravendita di fondi di esiguo valore e affidiamo al Segretario Comunale le autenticazioni per sottoscrivere queste necessarie stipulazioni di contratti per il trasferimento di fondi di esiguo valore. Non capiamo come mai il Governo ha dato parere negativo a questo emendamento, noi lo stiamo proponendo in ogni provvedimento utile che appunto riguarda la semplificazione del mondo agricolo. Si tratta di semplificare, quindi non capiamo veramente la razio per il quale il Governo e la maggioranza puntualmente rispingono questo emendamento che sarebbe davvero una manna dal cielo per gli agricoltori e soprattutto per i piccoli agricoltori e i contadini. Grazie Presidente. Grazie a lei. Altri che intendono intervenire? Non mi pare. Parere contrario, Relatore e Governo. 1.10 Parentela, la votazione aperta. Bolognesi, Piepoli, Sciullian, Fanucci, Grassi. Ci siamo? Bolognesi, Patriarca, Beni, Di Gioia. La votazione è chiusa. Presenti 433, votanti 419, astenuti 14, maggioranza 210, favorevoli 154, contrari 265, la Camera respinge. Siamo all'1.11 Russo. Se nessuno chiede di intervenire, parere contrario, Relatore e Governo, una votazione aperta. Capelli, Capelli, Fabri, Fabri. Nicchi, Nicchi. Bene. Bolognesi, Giuliani, Giuliani. Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 435, votanti 423, astenuti 2, maggioranza 217, favorevoli 57, contrari 376, la Camera respinge. 1.15 Russo, se nessuno chiede di intervenire, parere contrario, Relatore e Maggioranza del Governo, la votazione è aperta. Speranza. Speranza. Ciao chi? Stella Bianca. Vico. Monchiero. Sano, Monchiero, essendo che di fronte a lei c'è l'onore dei rabbini in piedi, noi possiamo solo immaginare se lei vota o meno. Altri? La votazione è chiusa. Presenti 436, votanti 353, astenuti 83, maggioranza 177, favorevoli 57, contrari 296, la Camera respinge. 1.16 Bosco, se nessuno chiede di intervenire, parere onorevole Bosco. Lo ritira? Ritirato. A questo punto votiamo l'articolo 1. Se nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta. Articolo 1. Folino. Fanucci. Onorevole Cozzolino. Bene. Possiamo chiudere? Chi dice no? Bratti. La scheda in blocco. Si è bloccata la tastiera. Abbiamo risolto però. Magari cambiamo il verso. Bene. La votazione è chiusa. Presenti 438, votanti 357, astenuti 81, maggioranza 179, favorevoli 355, contrari 2. La Camera approva. Siamo all'aggiuntivo. 1.02. Parliamo.